Allora, buongiorno a tutti, cittelli, se tu l'aiuti qui a casa di la proprietà di Avamida Bonaparte, a casa di Emilelli, perché tu vivi là sa casa è maio, è assai maio, e allora era a casa di Nabuleo Bonaparte. Chi era Napoliò? Chi era? Chi era Napoliò? Chi faccia? Ampereur, era l'imperatore, era l'imperatore francese. Allora, sa casa qui fa parte di un giardino che ha secoli, perché c'è un arrivedo, tamanto, che è secolare, e allora, quando è rientrato dall'Egitto, in 1790 ore, Napoliò e qualche sapientoni, perché era andato in Egitto, aveva la guerra, c'è un poeta Perceval, e qualche sapientoni qui ha cominciato a pensare, ha cominciato a pensare, a prendere il potere, a diventare il primo consul. E qui, in sa casa, che ha preparato il suo ritorno in Francia, e ha potuto mostrare a tutti i sapientoni che la sua vaniglia era ricca, che la sua vaniglia era una vaniglia che era messa in piazza qui, a Emilelli, a sua casa di campagna.